Allora, nel video precedente eravamo con Porterino Abbiamo iniziato i lavori su viaggio Però li mettiamo un attimo in pausa, un attimo di stand by Ah, un attimo di pausa, perché? Perché, come vi dicevamo anche nella diretta Insomma, non è un racconto molto lineare Perché c'è stato questo viaggio a Reggio di Calabria Per fare una bella sorpresa ai nonni di Paolo E quindi questo video racconta un po' questa avventura calabrese Quindi via, si parte! Buongiorno, tutto pronta? Pronti, si parte! Ragazzi, siamo di nuovo in aeroporto ad aspettare un volo Questa volta però siamo diretti verso sud Perché stiamo per andare a fare una bellissima sorpresa Altra sorpresa ragazzi, altra sorpresa Siamo riusciti a mantenere il segreto più o meno E oggi andiamo a vedere la reazione dei nonni di Paolo E quindi stiamo andando a Reggio Calabria Però facciamo un giro un po' largo Leggermente largo Stiamo andando a Catania Perché era il voluto economico che c'era Comunque saranno due ore di trasferimento Per arrivare a Messina Poi da Messina si prende il traghetto Altrimenti avremmo dovuto andare alla Mezzia Comunque sarebbe stata comunque due ore di treno Ma i prezzi erano veramente colli, assurdi Abbiamo preso i più economici in assoluto Questo volo ci costerà sui 35 euro se non sbaglio Sì, che è perfetto Visto il periodo di altissima stagione Stiamo partendo con praticamente nulla Quindi uno zainetto a testa Esatto Piccolino Però c'è tutto quello che ci serve E tutto quello che basta e avanza Diciamo per stare Una settimana Una settimana in Galabria Ma non vediamo l'ora di vedere le facce dei nonni Ma sono pazzi E niente dai Fra poco ci si imbarca Ecco qua cosa c'è qui in aeroporto Orio alzerio Qua già si comincia a stare tutti in piedi Noi come al solito Entreremo per ultimi Seduti fino all'ultimo E tra l'altro seduti e divisi Perché io sono appena quasi in fondo Tua metà aereo Nessuna priorità Niente di niente Quindi ci hanno messo a caso I posti con il periodo separati Va bene Ci sta Ci sta Ci sta E alla fine no? Siamo seduti vicini Sì Mi hanno fatto scambio con una ragazza Molto molto gentile Molto simpatica Molto bene Quindi siamo seduti vicini Da dire è super pieno Sono tutti i posti occupati E niente Siamo leggermente in retardo Leggermente Con un quarto d'ora Tantanto comunque Rainer mette Gli orari molto dilatati Al fine saremo comunque in orari Che bel caldino Ecco ho fiato un clima Vabbè ragazzi Appena arrivati qua Però Eh Come si fa Ciao Ciao Un arancino alle melanzane E un cornetto Com'è che c'è? Cornetto? C'è marmellata C'è 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 Arancino alle melanzane Che buono Sgagnalo Angela Sgagnalo Sgagnalo Buonissimo Mamma mia Allucinante Benvenuto in Sicilia E fra poco in Calabria Si va Stiamo cercando di raggiungere a piedi la stazione dei treni dell'aeroporto Fontana e Rossa di Catania E da lì c'è il collegamento diretto per andare a Messina Tutto bene? Tutto bene io e il cornetto stiamo bene Ma che roba sembra di essere un po' in Messico Sì ci sono i cactus I cactus Il calore Il calore estremo E via La stazione Prendiamo I biglietti Tra un'ora esatta Tra un'ora esatta Fortuna che c'è un bel po' Bella nuova sembra C'è un sacco di ombra Wow Guarda 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 che bel trenino Wow Guarda che bel freschino Proprio un bel trenino ragazzi Super comodo Adesso ci facciamo magari una bella dormitina Vedevamo freschi E poi via Mi sa che anche stasera Altro garancini Altro garancini Grandi emozioni E poi Grandi pietanze Grandi stomaci Stomaci o stomachi Stomaci 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 Hey this is the sign I'm gonna take the time to sit and watch the world go by Siamo arrivati in Messina A Centrali Ma non c'è il po' Non lo so Ma calissimo Andiamo Andiamo Direttore un controllo dei militari Vabbè controllo fatto Non ho segnato i nostri nomi Strano Stranissimo Eccoci qua Questa è la stazione dei treni di Messina E andiamo verso l'Ališcapo Abbiamo solo 10 minuti perché il prossimo è tra 10 minuti quindi corriamo Fatto 3 ore e 50 a testa si va in giù Eccoci ragazzi il traghetto per Reggio Calabria Aliscapo appena partito Il viaggio durerà una mezz'ora circa Purtroppo non si può stare fuori E non si vede nulla Non si vede assolutamente nulla Tutto bello unto Però niente adesso tra poco arriviamo Oggi rivedrò i miei nonni e i miei zii Dopo due anni e mezzo circa Un po' di più di due anni e mezzo E bello Gli zii sono complici quindi lo sanno I nonni no Non sanno niente Ma ma quanta creazione che avranno Soprattutto tua nonna no? Macchina? Aereo? Treno? Nave? Cosa manca? Bicicletta Bicicletta Motorino Motorino E monopattina Non mancano solo 3 Mancano solo 3 E oggi lo abbiamo fatti tutti Bel vento Non si sta malissimo qua Facciamo molto più caldo a Catania Catania Sì a Catania Sono scordito Ci siamo ci siamo dai Siamo arrivati Che bella Ragazzi questo è quello che viene definito il chilometro più bello d'Italia La via marina di Reggio Calabria Non so se sei nato dove sei cresciuto da bambino Avevo 3 anni Passavi le tue estati Avevo 3 anni e spessavo le mie estati Questo sì Questo me lo ricordo Questo me lo ricordo perché nel momento della nascita non me lo ricordo Vabbè grazie Mi sarei subito dal contrario I primi anni non li ricordo perfettamente ma sono fuscati Però poi l'estati dai nonni sì Quelle me le ricordo Spero te le ricordi bene E questo bellissimo lungomare Ma comunque Ci sono delle colonne Queste sono delle idee di colonne Idee di colonne Idee di colonne sul mare E beh è spettacolare Guarda la di fronte la Sicilia La Sicilia Sempre bella Riggio eh Sempre bella 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 Ma guarda che bella Guanajuato No Si assomiglia un sacco Allora Guanajuato dicevi che sembrava Reggio Ma Reggio dicevi che sembra Guanajuato Questo è un po' in confusione Comunque questo è il teatro Proprio come a Guanajuato Che giro stai facendo Così poi a un certo punto cado per terra Che bello C'è il parco qui con tutti gli alberi Solo che a Guanajuato ci sono i mariaci Qui si suona la fisarmonica Però è veramente simile Gli alberi squadrati Signora Un paio di jeans Ma che Ma che dici Ma che dici Ma che dici Ma che c'è di pezzini Sorpresa Sorpresa Ma che dici Ma che credicendo Ciao 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 Nonnina Oddio mio Vieni anche la vine ad abbracciare Vieni Nonnina Stai tranquilla la nonna Prima domanda della nonna Avete mangiato? Stiamo subito a mangiare gelato È incredibile È incredibile Sette veli Nocciola e panna L'ultimo tassello L'ultimo che lo scopre È il nonno È il nonno È il nonno Un personaggio iconico Iconico Che ha fatto la storia Della famiglia Un poeta Un poeta Il poeta della famiglia E Intesto andiamo a trovarlo Adesso andiamo a vedere Come la gisce anche lui Buonasera Bocca aperta Buonasera Ma su stronzo E non dice niente Sorpresa Sorpresa Si chiamano sorprese Nonno Come va? Tutto a casa Sì Conti Posso dire Non ho fitto una casa Sembra il caso Paolo e Angela Si chiese Perché voi li conoscete Dice tutto Ecco li conoscete Tutto Tutto Ceno di famiglia ragazzi Molto provante Stiamo mangiando Cose buonissime Fantastiche E siccome Niente Ci siamo Siamo presi Dal cibo Tutto il resto Metteremo i nomi Di cose che abbiamo mangiato Buon giorno Buongiorno ragazzi Buongiorno Oggi Si fa una cosa un po' particolare C'è un piccolo problema D'acqua E quindi oggi Si riempie l'acqua Nel fontanello Probabilmente oggi Faremo l'acqua Un po' come in India Con una pentolina Eccoci qua Finalmente E ragazzi Questo è un condominio Un po' vecchio E poi il comune Mette poca acqua Cioè Non c'è molta acqua A Reggio Calabria Dov'è che siamo? Marina di San Lorenzo Ok ragazzi Oggi Giornata al mare In famiglia Come mi suggerisce Il camera Ma noi siamo Marina di San Lorenzo Sto coprendo qua dietro Perché c'è troppo vento Una giornata spettacolare Però c'è un vento Molto forte Ma l'acqua Forse proprio per il vento È limpidissima Sembrava una piscina Guarda qua che colore No beh È veramente Un spettacolo Assurdo E là in fondo C'è un incendio Probabilmente si vede Tutta la nuvola di fumo Infatti passano tutti Gli aerei A portare l'arco A raccogliere l'acqua Per spiegare l'incendio Invece Dalla parte opposta Là in fondo C'è l'Etna Che non si vede Forse benissimo E c'è la nuvoletta Che sbuffa Guardate ragazzi È stagione di incendi Purtroppo Ci sono tutti i Canadair Che arrivano a prendere l'acqua Proprio di fronte a noi Eccolo qua A due passi l'acqua Ciao Guarda guarda Eccola là Prende l'acqua E poi Riparte Ma guarda qua Che cosa c'è Abbiamo recuperato Un asciugamano Anche la tieni Ho perso la ciabatta Tieni Mamma quanto pesa Ciabatta Vieni a me Ah Pomeriggio di struscio Qui a Reggio Calabria Questo è il duomo Di Reggio Calabria Quindi la piazza Una delle piazze centrali Del centro Qui dietro c'è Il negozio della regina Regina Calcio 1914 La squadra ufficiale Di Reggio Calabria Gli Amaranto Gli Amaranto Gli Amaranto Io da piccolo Vai Tu questo non lo sai Angela No il reggio Non lo sa Io avevo Il mantello della regina E che faccivi col mantello Superman Superman Amaranto però Colore Amaranto In giro con il mantello Amaranto Non capito Andavano tutti i corridoi Della nonna Avanti e indietro E' rimasto abbastanza famoso In famiglia Diciamo Comunque bellissimo Questa La basilla cattedrale Di Reggio Calabria Molto molto bella E' particolare Diversa Rispetto alle chiese classiche Diciamo E dai tempi di San Francisco Ragazzi Che io ve lo dico Reggio Calabria E' una piccola San Francisco Vedete Ci sono le discese Le discese Le salite Di qua Andiamo al castello aragonese Ragazzi Purtroppo Il castello E' chiuso Non si sa il motivo Dato che Gli orari Dice Dovrebbe essere aperto Perché adesso sono Le 5 Del pomeriggio Ma Niente E' chiuso Tra l'altro Per entrare Serve Il Green Pass C'è addirittura Ragazzi Una gastronomia Polpetteria Ristorante I Bronzi Quindi scritto Con questo carattere Un po' greco Mmm Che bello Bontà Polpetteria Poi Bizzarro Stai ma Prima volta Che la figlio Mai visto Una polpetteria E' congelata E' congelata ragazzi Freddissima ragazzi Storicamente Veramente ghiacciata Io non sapevo questa cosa Invece si Sullo stretto Sì È glaciale Ci sono delle correnti Freddissime Ma un tramonto Che pazzesco Quella di fronte È La Sicilia La Sicilia Che Sembra così vicina Visto da qua No Sì Quasi sarebbe Di andare a nuoto No Adesso No Però Si In realtà Si fa Si fa Si fa Però Più in là Dove è più stretto Lo stretto Dove è più stretto Dove è più stretto Dove c'è il Come si chiama Il pilone Il pilone Il famoso pilone E Niente Via Ci scongiliamo un po' Vista Reggio Calabria Si vede anche Una chiesa Siamo Distrutti Dal mare Dal mare Bellissima giornata Di mare Sole Questa La famosissima In Messico C'era la coca cola Al caffè L'abbiamo anche provata Sperando Ma niente Ma niente A che vedere Con la vera La siesta Non è una pubblicità Ragazzi Si trova Soltanto Qui Si trova Soltanto Qui Passo io Prima Vai Vai Angela La siesta Mamma che buona Oh Maria È buonissima Ma la fanno ovunque Caffè leggermente frizzante In acqua romanella Creato e distribuito Solo A Reggio Calabria E c'è un messicano sopra E c'è un messicano Che fa la siesta Cose strane Vedete Questi collegamenti assurdi Reggio Messico Ci vorrebbe un po' più di ghiaccio secondo me No Perfetto Va congelata Niente ragazzi Vi abbiamo portato con noi In questo momento Molto emozionante Di incontro Con i nonni Di riabbracciare Tutte le nostre famiglie È stato bellissimo Questa è l'ultima sorpresa Che abbiamo fatto Quindi È stato veramente bello Per noi che eravamo lontani Da tanto tempo Comunque è stato molto bello È stata una carica pazzesca Di energia Positiva Di affetto Di amore Perché comunque ecco Nonostante ormai ci siano No Tutti questi mezzi Per rimanere in contatto C'è da dire Che non si riesce proprio a Instaurare magari Con tutta la famiglia Un rapporto Molto molto stretto A distanza Quindi comunque E comunque Voglio dire Il contatto L'abbraccio Sono tutta un'altra storia Tutta un'altra cosa Quindi ne avevamo Veramente bisogno E ce lo siamo goduti Appieno Tantissimo E quindi magari i video Sono anche un po' Singhiozzo Perché Sì i video Prendono dei pezzettini Non è facile Sicuramente Esatto Fare video Perché comunque Quando noi siamo abituati A fare i video È che siamo quasi sempre Da soli Sì siamo io e Angela Insomma Noi quindi gestiamo Noi la cosa Poi in italiano Insomma ci sentiamo Anche un po' In una bolla No Esatto Invece in questo caso Tra il fatto che siamo in Italia Tutti capiscono Quello che diciamo Non è facile proprio Più il fatto che Sono momenti molto privati Anche no Quindi non è che si può Star lì con la camera A qualsiasi momento Secondo della giornata Insomma quindi Questi sono i video Che stiamo facendo In questo periodo Poi quando ripartiremo Si tornerà un po' Anche la nostra La nostra routine Che in viaggio Si tornerà In viaggio Sì è un vero e proprio blog Che racconta proprio Tutte le nostre giornate Tutto quello che succede Tutte le avventure E disavventure Che succedono Però appunto Questi video Un po' italiani Diciamo sono un pochino Diversi dal solito E saranno un po' diversi Anche quelli Della camperizzazione Di viaggio Che porteremo avanti Passo passo E in questo Vi porteremo proprio Con noi In ogni piccola cosa Che facciamo Piccole modifiche Tutto quanto E vi racconteremo un po' Qual è la nostra idea Di viaggio E poi a settembre Si riparte Si riparte Esatto Quindi niente ragazzi Rimanete collegati Mi raccomando Un super pollicione Spolliciate Iscrizione al canale Un canale Sì E aiutateci a far crescere Questo bel canale E noi ci vediamo Al prossimo video E vi abbracciamo Forte 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 Ciao ragazzi Alla prossima Ciao Sì Ciao